Salve, buonasera a tutti, Skype ci dice che in questo momento stiamo registrando, grazie a tutti voi che siete qui e benvenuti al nuovo podcast di delitti risolti, in questo caso non si dovrebbe chiamare delitti risolti perché sapete benissimo che parleremo del Movi Prince, ma dovremmo parlare di strage irrisolta, almeno dal nostro punto di vista, con me come al solito c'è Franca da Criscio, buonasera Franca, buonasera, e il criminologo è il dottor Luca Tacchi, buonasera Luca, buonasera a tutti, bene allora per farla breve e poi dopo cominciamo subito a dare la parola alla Franca, il disastro del Movi Prince è stato un sinistro marittimo, io questo l'ho copiato, va bene? È avvenuto la sera del 10 aprile del 1991, quando il traghetto Movi Prince appunto, di proprietà della Navarma, entrò in collisione con la petroliera Agi Pavruzzo nella rada del porto di ribordo. Il disastro ha causato la morte di tutte 140 le persone che tra passeggeri ed equipaggio erano a bordo. L'unico sorprevissuto fu il giovane mozzo napoletano Alessio Bertrando, che è rimasto attaccato al di fuori della nave, insomma io vorrei che andaste a vedere le fotografie di questo disastro, è veramente una cosa allucinante. Io direi di chiedere alla Franca se cortesemente ci comincia a introdurre all'interno della storia, poi svilupperemo insieme tutta la vicenda. Prego Franca. Allora grazie, allora la Movi Prince è un traghetto passeggeri, fa parte del gruppo Navarma, lungo 131 metri e pesa circa 6.700 tonnellate. Parte dal porto di Livorno, come dicevi, il 10 aprile 1991. Sono circa le 22.05. Naturalmente viene all'inizio guidato dal comandante Federico Scherri, che è il pilota di porto, che poi verrà sostituito, quindi la nave poi sarà lasciata al capitano Ugo Chelsa. Il comandante è una persona molto conosciuta, è considerato uno dei comandanti, forse il miglior comandante del porto di Livorno, insieme al suo equipaggio, anche loro composto da persone molto esperte, molto brave. Ha con sé anche sua moglie, che è la seconda volta che fa il viaggio insieme al marito e sono diretti ad Olbia. La nave salpa alle 22.05 e dà il May Day intorno alle 22.25. Quando il marconista, non è in sala radio in realtà, con un portatile, avvisa la capitaneria di Porto che hanno fuoco a bordo. Si susseguono vari colloqui con la capitaneria di Porto anche dalla nave Agip Abruzzo. La nave Agip Abruzzo è una cisterna, è una petroliera enorme, alta 70 metri e ha con sé 82.000 tonnellate di Greggio a bordo e si trova a circa 2.000 miglia dal porto di Livorno. Anche loro danno il May Day. Il capitano dell'Agip Abruzzo dirà che c'è stata una collisione con una bettolina. La bettolina è una piccola nave che serve nei porti da aiuto alle navi, per rifornire le navi più grandi, viene di solito usata per questo motivo. L'Agip Abruzzo fa parte della SNAM e il capitano, non ricordo il nome in questo momento, Superina, Renato Superina, quindi parla innanzitutto di una collisione con una bettolina, ma anche di una perdita di nafta, che risulta molto strano perché loro portano petrolio e non nafta. Chiama la capitaneria di Porto e anche lui dice qui c'è fuoco, aiutateci, soccorreteci perché stiamo prendendo fuoco. A questo punto, il comandante Superina avvisa la capitaneria di Porto di aver avuto una collisione con una bettolina e di avere del fuoco a bordo. La capitaneria di Porto sembra non prendere su serio questi allarmi, queste richieste di aiuto. Tanto è vero che a un certo punto interviene anche l'Agip Napoli, che avvisa la capitaneria di Porto e dice guardate che state facendo, qui c'è fuoco, c'è l'Agip Abruzzo in fiamme, venite a soccorre. E solo a questo punto cominciano i soccorsi, chiederanno dove vi trovate. L'Agip Abruzzo dirà se uscite fuori dalla capitaneria ci vedete, siamo talmente vicini al porto che ci vedete a occhio nubo. A questo punto la nave viene soccorsa. Diciamo che intorno alle 23 di quella sera cominciano ad arrivare i superstiti dell'incidente. Ma presto ci si accorge tutti quanti che sono i superstiti solo dell'Agip Abruzzo, tutti dell'Agip Abruzzo. E quindi si comincia a fare le domande, se c'è stata una collisione c'è un'altra nave in mare, in avaria. Però se la prendono un pochino comoda i soccorritori, i primi ad arrivare e a capire che la Moby Prince sono due ormeggiatori, sono Mauro Valli e Walter Mattei, che riescono ad arrivare vicino alla Moby Prince. Tra l'altro loro due si accorgono che c'è una persona che si tiene alla balaustra della prua della nave e riescono a salvarlo. È il mozzo, si chiama Alessio Bertrand, come dicevi, ha 23 anni ed è originario di Napoli. Lui appena ha salvato, dirà alle due persone che lo hanno salvato, guardate ci sono persone a bordo da salvare. E quindi sia Mauro Valli che Walter Mattei contattano di nuovo la Capitaneria di Porto chiedendo aiuto per far salvare le persone rimaste intrappolate nella nave. Ma stranamente dalla Capitaneria di Porto c'è un lungo silenzio. Si odono dei fischiettii, delle brutte parole, come un po' a prendere in giro queste persone che chiedono aiuto. A questo punto il mozzo viene fatto salire su una motovedetta e sarà fermo in quella motovedetta per circa mezz'ora. E poi il mozzo dirà, cambierà versione, dirà che non ci sono persone più in vita in quella nave, ma che sono tutti morti. Per cui la nave, la prima persona che salirà su quella nave effettivamente sarà un marinaio che servirà questo suo ingresso nella nave per trainare, quindi userà un cavo per trainare la nave in porto. Praticamente sulla nave i primi soccorsi arriveranno in tarda mattinata. Il marinaio sale intorno alle 3-3.30 di mattina, ma i veri soccorsi per la nave saranno in tarda mattinata quando la nave verrà portata in porto. Ah ok, Luca prego. Allora, la questione appunto, Franca ha fatto una ricostruzione abbastanza fedele a quello che sappiamo e che è stato ricostruito negli anni. Quello che praticamente poi si deve dire del... per capire, Moby Prince va diviso in tre fasi. La prima fase è quella che va dalla mattina, cioè nemmeno dalla sera prima nel porto di Livorno fino al momento dell'impatto, poi quello che succede a seguito dell'impatto fino a che non arrivano i soccorsi e lo portano in porto e poi tutto l'iter giudiziario che arriva fino ad ora con le commissioni parlamentari. Sono tre momenti fondamentali e che fanno capire la mole di questa tragedia diventata strage, che per tanti è la ustica del mare, proprio per la gravità di quello che è successo e rappresenta soprattutto un episodio di grave insabbiamento, di mala giustizia. Possiamo tranquillamente ormai chiamarla mala giustizia perché quello che è emerso dalle commissioni parlamentari ci permettono di avere dei legittimi dubbi su quello che è stato portato avanti dopo l'evento. Quali sono i fatti su cui dobbiamo un attimo riflettere? Allora la prima cosa che per tanti, e è mia intenzione che tutti quelli che ascoltano la trasmissione si levino dalla testa, quell'idea che quelli che stavano portando il traghetto stessero guardando la partita di calcio. Questa questione era veramente una bagianata uscita perché il Bertrand disse sì, quelli liberi dal servizio stavano guardando la partita, ma questa cosa qui non era vero che chi guidava il traghetto, chi pilotava il traghetto stesse guardando la partita, anche perché non ci sono televisioni in plancia di comando. Ma poi lui disse di aver portato i panini al prosciutto, giusto? Ora non vorrei che stavano tutti lavorando, stavano facendo proprio dovere. Anche perché l'uscita dal porto di un traghetto è come il decollo di un aereo, è il momento dove chi è in servizio è in servizio e ha quattro occhi aperti, è il momento più importante. Poi dopo nella navigazione lasci un turno di guardia in plancia, ma non è i primi istanti. Quando esci dal porto comunque il comandante se non è lì ha appena finito di dire cosa bisogna fare. Quindi sono dei momenti veramente concitati e molto importanti e su cui qualunque equipaggio di certo non si mette a perdere il tempo a guardare le partite. Sì Luca, ti interrompo un attimo da perfetto ignorante perché è una cosa che mi piacerebbe di sapere. Allora non so se tu sei talmente esperto a potermi rispondere, ma io essendo un ignorante al cento per cento provo a farta. Quando una nave prende il largo, che parte prende il via? Viene messa una sorta di pilota automatico oppure c'è sempre qualcuno che le dà la direzione. Allora, le fasi praticamente funziona così. Intanto hai più persone che fanno più cose. Non è come guidare una macchina che il guidatore è fessa. certo. Hai un uomo al radar, un marconista che sta alla radio, hai un timoniere, hai un ufficiale di coperta, di plancia, insomma un ufficiale di rotta che dice cosa è, diciamo, rappresenta il comandante oppure è proprio il comandante che dice cosa bisogna fare. Poi hai un timone che viene utilizzato impostando i gradi, quindi il comandante dà i gradi e dice prendi la rotta per, ad esempio in questo caso la rotta era tipo per 220 gradi, poi è stata modificata per evitare appunto alcune navi in rada. Quindi impostano il timone, il timone viene impostato su quella rotta e il timone sta su quella rotta, però c'è sempre chi controlla continuamente che la nave non sbandi, ok? Non vada via dalla rotta perché comunque è sempre un oggetto in mezzo al mare, è soggetto al vento, è soggetto alle correnti, è soggetto alle maree, è soggetto al moto ondoso, quindi hai una parte, diciamo, di automatismo dove te il timone lo metti e quello sta dritto, metti la macchina, imposti la manetta del gas, chiamiamola così, e la nave prende l'abbrivio e mantiene con la velocità e poi però fai delle correzioni, quello mantieni sempre un minimo di controllo. Quindi sì, c'è un automatismo, poi ci sono anche sicuramente navi un po' più evolute, dove c'è anche una sorta di guida robotizzata come per gli aerei, gli aerei sono un po' più ferrato di aerei, l'aereo ti fa anche, proprio una volta che gli fissi i punti, c'è dei timer, dei countdown, quando raggiunge il punto geografico vira da solo e va verso l'altro punto geografico, però il pilota, almeno uno dei due, magari uno può fare un pisolino, ma quell'altro, perché se sono viaggi lunghi, chiaro, non è che puoi, no, strafare. No, ma faccio, sono in due proprio perché se fanno un viaggio di otto ore e guidano quattro ore a testa. Esatto, esatto, oppure fanno una tratta per uno, dipende che tipo di voli sono, e lì già l'aereo curva anche da solo, ok? Vira, cabra da solo un pochino. Però, perdonami, l'atterraggio viene fatto comunque sempre manualmente, giusto? Sì, come qualunque altra manovra, in particolare i piloti, quello che ha detto prima Franca, il pilota assiste il comandante ma non guida lui, si chiama pilota ma non è che pilota il traghetto, pilota il comandante e il comandante di solito sta accanto al pilota perché è il momento di massima responsabilità, è proprio l'uscita dal porto e il pilota consiglia il comandante e anche lì c'è un tratto per farlo, comandante io farei così, c'è anche un modo particolare di etichetta con cui chiaramente ci si rapporta ed è praticamente il pilota, incarna quelli che erano una volta nel medioevo per dire se non prima i conoscitori dei porti e quindi è colui che conosce come è fatto il porto, come è fatto il fondale, come risponde la nave in base alla conformazione del porto e del suo fondale e delle correnti che ha e suggerisce al comandante come affrontare determinate manovre, ci sono dei porti abbastanza comodi e piccoli e con un alto fondale, ci sono altri porti che sono magari enormi, con passaggi stretti, con correnti molto insidiose e quindi infatti i piloti sono comandanti anche loro che svolgono questo tipo di servizio, è ben retribuito però è comunque una grande responsabilità e appunto essendo il momento più importante, Sgerri era proprio lì, infatti uno dei testimoni più importanti perché dice no no ragazzi, quell'equipaggio lì era un equipaggio molto serio e non stava davvero guardando la partita. Ha ragione in più di questa cosa imbarazzante perché io conosco alcune delle associazioni delle vittime e tanti si lamentano, poverini che dicono quando li vedono voi siete quelli che guardavano la partita, voi siete quelli della nebbia, è tremendo, è veramente tremendo, pensare che invece l'equipaggio, tranne il Bertrand che si è salvato, buon per lui, ma tutto l'equipaggio, ogni singolo personaggio dell'equipaggio è morto esattamente dove doveva essere per salvare i passeggeri, non ce n'è uno che non sia morto dove doveva essere secondo il piano d'emergenza, ed è una cosa, se pensate, tremenda, cioè di una nobiltà incredibile perché l'equipaggio è morto mentre cercava di difendere i passeggeri. Invece lo raffendono in questo modo dicendo che stavano guardando la partita. Eh, ma non sono stati offesi dalle persone. In un porto pieno di navi, poi lo vedremo, in un porto molto affollato, loro stavano guardando la partita, insomma, l'ha passato offensivo anche per i morti. Loro invece sono morti ognuno difendendo l'equipaggio come doveva, cioè gente che è morta mentre spengeva il fuoco, mentre aggirava il fuoco che non entrasse dentro la parte, dentro la plancia, dentro, insomma, dentro i ponti, ecco, dentro i ponti del traghetto, ognuno nelle posizioni che doveva avere. Quindi stiamo parlando di persone che hanno fatto veramente l'estremo sacrificio nell'atto di compiere il proprio dovere. Quindi pensare che poi questa storia della partita non è che dice è venuta fuori perché hanno fatto, come per dire, crozza, no? Quando fu di Schettino la telefonata, la macchietta, allora Schettino è rimasto la macchietta, no? Lì fu addirittura un intero sistema che si mosse quella notte per screditare quell'equipaggio, per dire, ma no, sono stati loro, c'era la nebbia, hanno sbagliato e sono andati a picchiare nella nave, cosa che è pressoché impossibile, cioè è una questione, cioè un urto davanti al porto mentre esci, parlando con qualunque marittimo ti dirà che è una cosa che non deve succedere, perché è una cosa che ha un momento talmente importante e serio e hai talmente tanti strumenti che è una cosa che non può succedere, cioè quasi è una cosa che per quanto sia evoluta ormai la sicurezza navale è uno dei posti dove meno succedano queste cose tra navi di quella stazza. Poi è chiaro, se ti arriva la barca a vela che ha perso il vento, il motoscavo che arriva a tutta velocità e passa da dove non deve, cioè ci sono poi chiaramente dei sinistri in quelle situazioni lì, però c'è sempre qualcuno che esagera quella velocità, passa dove non deve andare o fa una manovra senza rispettare le leggi del mare. Quindi è importante pensare che non sono quelli che guardavano la partita, ma è gente che è morta mentre cercava di salvare i propri passeggeri. Quindi un equipaggio di gente veramente capace, tutti italiani, tutti lavoratori professionalizzati, regolari, cioè era veramente un equipaggio di operai specializzati, quindi di lavoratori, cioè veramente di gente che sapeva fare il proprio lavoro e che ha dimostrato fino all'estremo sacrificio di essere un equipaggio di persone comunque di alto profilo. E poi si passa alla questione dei passeggeri. I passeggeri, e già qui cominciamo a entrare più nel mistero, i passeggeri, voi pensate, loro escono alle 22, quant'era? E 15, più, 14 dal porto. Sì, più o meno. Gary scende alle 22 e 14, alle 22 e 25 arriva al Mayday. Quindi fanno una cosa come due miglia, che due miglia nautiche sono 1800 metri, quindi siamo sui 3-4 chilometri, partendo da una velocità di quattro nodi che sono due metri al secondo. Quindi il tempo veramente di arrivare al Mayday e dando comunque parecchio gas alla nave arrivi e sbatti contro l'Age Pabruzzo. Quindi proprio è partita e l'ha presa quasi, cioè subito, non è che ci sono stati periodi di evoluzione strani, cioè bene o male è partito da quattro nodi, è arrivato fino alla velocità di crociera che era circa 16-18 nodi e appicchiato nella nave. A quel punto i passeggeri hanno avuto il tempo di recuperare le valigie perché erano tutti dentro il salone deluxe, quindi nella parte centrale della nave, con le valigie complete, quindi pronti a scendere e il giubbetto di salvataggio indossato. Erano nel salone deluxe con la parte dell'equipaggio che era devoluto al controllo, all'assistenza, al personale in quel momento d'emergenza, quindi c'era un ufficiale più alcuni marinai e poi chiaramente c'è il personale delle cucine, cioè insomma c'è una struttura che si muove ognuno nei propri ruoli e solo alcuni poi sono stati trovati erranti, poi vedremo perché. Tutto il personale a quanto pare nel momento in cui c'è stato il sinistro è stato in grado di prendere i propri bagagli e scendere giù al salone deluxe e attuare il piano di emergenza. In attesa dei soccorsi che purtroppo non sono arrivati. Però in base comunque a quelle che sono le ricostruzioni, quello che sappiamo è che il traghetto nel momento in cui è andato a sbattere contro la petroliera è diventato subito una palla di fuoco. Quindi già c'è questa distonia tra quello che fanno con calma i passeggeri e questa invece palla di fuoco che inizia a girare per il martirreno, perché poi cosa succede? Che al momento dell'urto viene data macchina indietro, la nave si disincaglia dalla Cipabruzzo e inizia a fare una rivoluzione intorno al luogo del sinistro e ancora non è chiaro, cioè a regola andava a marcia indietro. Perché? Perché il Bertrand si è salvato stando sulla, sulla, praticamente sulla ringhiera della poppa del traghetto. E invece, appunto, quindi secondo la ricostruzione prende subito fuoco, va a marcia indietro, partono il piano di emergenza, i passeggeri vengono messi all'interno. A quel punto succede qualcosa di veramente strano. Che vengono allertati i soccorsi, il Mayday non arriverà mai perché c'è, se tutti avete sentito quella famosissima registrazione, perché caso volle che in quegli anni stavano sperimentando questo bobinone che registrava tutte le comunicazioni sul porto di Livorno, e quella sera registrarono appunto tutto, si sente questo Moby Prince, Moby Prince, Mayday, M, e a quel punto parte questo Bailamme, diciamo come si diceva quando c'erano i baracchini, questo Bailamme che disturba al continuo della comunicazione, che è Mayday, Mayday, abbiamo preso fuoco, una roba del genere. No, io scusate, io ora parlavo da solo e non mi era accorto che il microfono è disattivato. Bailamme, ma si dice ancora, Bailamme sì, che vorrebbe di tutto sto casino, tutto sto Bailamme, che poi viene detto anche dai giovani adesso, che è tutto sto Bailamme, no? Ma si dice ancora, i camionisti che sono forse gli unici ad utilizzare il baracchino. E infatti ridevi, ti ricordi che ridevi dicendo HI, 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 per non fare Bailamme, ridevi facendo HI, HI, HI. Passami la tua 50, te la ricordi? Sì, la tua 25. Infatti ci sono poi durante queste comunicazioni, quei fischietti e quella frase in barese, né tremone, prenditela in quel posto, che dice così, che erano i classici troll, quelli che ora si chiamano troll, che comunque anche all'epoca dei baracchini c'erano i buontemponi che intervenivano, soprattutto sul 16, per fare i fenomeni. Comunque quando il Moby Prince lancia l'allarme, comunque il messaggio è vero che è disturbato, però si sente Moby Prince, Moby Prince, Moby Prince. Quindi avrebbero dovuto immaginare che oltre all'agip Abruzzo, l'altra nave in difficoltà, non poteva che essere la Moby Prince, visto che comunque il messaggio è arrivato. Ma è bello che appunto, perché il Moby Prince era appena uscito, aveva fatto tutte le comunicazioni di rito che si fanno all'avvisatore marittimo, che è praticamente una specie di torre, una torre di controllo, veramente, che è lì sul porto, sui porti. Gli aveva dato tutti i dati che gli deve dare e l'uscita. Addirittura avevano chiamato per farsi passare una telefonata commerciale su Olbia. Quindi comunque c'era contatto, però già dall'inizio il Moby Prince aveva dei problemi di collegamento e già si sente sul bobinone, su tutte le registrazioni, che già gli dicono guarda non ti sento, passa su un altro canale. Quindi già c'era qualche problema di comunicazione poi in quel momento lì c'è questo bailam e questa comunicazione si perde. Nel frattempo dall'Agi Pavruzzo chiamano il Medea anche loro e curiosamente parlano di una bettolina. Quindi nessuno in quel momento pensa al Moby Prince perché gli dice forse una bettolina. Ora, per fare chiarezza, la differenza tra una bettolina e una petroliera e un traghetto è come pensare a un furgoncino della Volkswagen, un pullman di quelli, un pullmino di quelli tipo quelli per lo scuolabus e un autobus a due piani con rimorchio. Queste sono le tre ordini di grandezza, quindi la bettolina è come un furgoncino della Volkswagen. Il traghetto è un pullmino leggermente più grande, quindi uno scuolabus, perché le bettoline bene o male arrivano tra gli 80 metri circa di media, poi c'è qualcosa anche un po' più grande. i traghetti si va sui 100 e passa metri, soprattutto Moby Prince che era quello più importante della odierna Moby, che all'epoca era una varma. Invece la petroliera era un aggeggio da 300 metri, che addirittura poi era stata accorciata, arrivava sui 280, comunque gli 180 metri sono tre campi di calcio praticamente. Quindi cosa succede? C'è questo sinistro, questo incidente, la nave si disincaglia e comincia a girare per il mare in fiamme, il personale rimane dentro sia l'equipaggio che i passeggeri in attesa dei soccorsi, questi soccorsi non arriveranno mai. Sì, la capitaneria di Porto si giustificherà dicendo che erano sicuramente morti tutti, per arrivare fino a loro ci avrebbero impiegato circa 30 minuti e in quei 30 minuti sicuramente erano già tutti morti, quindi non c'era questa fretta. Esatto, e questa cosa qui poi emergerà, tra virgolette, anche, in realtà sarà la giustificazione per la sentenza di assoluzione per tutti al processo che seguirà. Ma andiamo un attimo a vedere cosa è successo nel dettaglio in quegli ultimi minuti prima dell'impatto. Ci sono varie ricostruzioni. Inizialmente ci sono state due commissioni parlamentari, la prima ha intanto sancito che non c'era nebbia, cosa che invece inizialmente quelli che avrebbero dovuto soccorrere cercavano di mettere a giustifica di quello che era accaduto. Una forte nebbia, un'intensa nebbia, quando invece era semplicemente il fumo che con un vento che veniva dal sud era arrivato fino al porto di Livorno. E poi chiaramente uscendo dal Livorno e andando verso sud ti trovavi tutto il fumo che ti veniva contro, anche perché c'era un po' di vento, due nodi di vento, quindi un pochino di vento c'era, e il fumo rimaneva basso e quindi andava contro le navi che uscivano dal porto. Quindi era un fumo, poi misto a vapore perché c'era anche acqua, perché anche il mare prendeva fuoco perché c'era petrolio e acqua, quindi c'era un po' di tutto, vapore, fumo e tutto. Poi c'è un'altra questione molto molto particolare, appunto vi ho detto che è stranissimo che una nave che esce dal porto vada contro, quindi una nave che già di per sé è un campo da calcio e mezzo, vada contro un'altra nave che ha tre campi da calcio, messa di traverso. Quindi è come se voi uscite dal garage, siete allo stop, avete un autobus davanti, guardate a destra e a sinistra, guardate l'autobus e ci andate contro. È un po' strano. Infatti andando a vedere già nella prima commissione parlamentare, quindi quella della diciassettesima legislatura, mi pare, quella della commissione Lai, diciamo, ecco, la prima commissione, lì venne fuori che questa nebbia non c'era, ma era questo fumo che veniva dall'incendio, ma anzi c'era un altro incendio. Praticamente due ufficiali dell'Accademia Navale, e l'Accademia Navale di Livorno è praticamente all'imboccatura del porto, poco dopo l'imboccatura del porto, ed è quasi davanti a dove è avvenuto l'incidente, due ufficiali che erano lì di servizio quella sera, videro passare il traghetto, poi videro delle lingue di fuoco sull'Acipa Bruzzo, ma il traghetto era ancora lì, era ancora a Livorno, era davanti a loro. Precedenti l'impatto, quelle lingue di fuoco. Precedenti, come se ci fosse già un incendio a bordo, a un certo punto venire fuori una svaporata di vapore dalla Acipa Bruzzo e poi spengersi completamente. Ora, io mi sono un po' informato su questa questione, effettivamente ci sono dei generatori sulle petroliere, quindi te hai, come qualunque struttura importante, te hai un servizio d'emergenza, cioè nel momento in cui vai in blackout, ti parte un generatore e ti partono le luci d'emergenza, quindi le luci di fonda, le classiche lucine, nel momento in cui hai un blackout e che ti vengono fuori per farti vedere ancora. Però c'è la possibilità che qualcuno, per manutenzione, per errore, l'abbia tenuto spento. Quindi te puoi avere il generatore che parte, ma che poi ha gli interruttori che non fanno uscire la luce, non portano corrente materialmente al resto dell'impianto. Quindi è il generatore, ma è fino a se stesso. Quindi può essere successo questo, quindi te hai un equipaggio che al buio deve andare a cercare questi interruttori, accenderli per far partire poi tutte le luci di fonda, che sono queste luci che dicono la nave è ferma, siamo qua, e quindi è quello che si ipotizza, possa essere successo che giustifica il fatto che intanto il traghetto non l'abbia vista. Perché? Io a quel punto ho l'Agepabruzzo, 300 metri di nave, spenta in mezzo al mare, in un posto dove non poteva essere attraccata, perché era proprio dove doveva passare il traghetto, e in quel momento avvolta in un vapore, non nella nebbia, ma in un vapore, di un incendio che stavano spengendo a bordo. Questo è il primo, appunto il secondo elemento molto importante che è emerso dalla prima commissione. Terzo elemento è stata la questione della bomba. Ora, qui questa cosa poi è venuta fuori che era un incrocio tra un depistaggio e un errore. io penso più, propendo più per un errore, però ha permesso di scoprire altre cose molto, molto curiose. Quindi cos'è successo? Andiamo per gradi. Tra le varie perizie che erano state condotte, avevano notato che c'era stata un'esplosione in un vano a prua. La prua è la parte davanti, il muso della nave. La poppa è la parte dietro. Comunque, a prua, nella zona del boat thrust, che è una zona dove c'è un timone, un'elica di prua che aiuta a fare il movimento del muso quando si gira su se stessa la nave, in questo boat thrust, questo magazzinetto, diciamo, chiamamolo così, davanti a prua della nave, c'era stata un'esplosione. il tecnico che fu invitato a fare i rilievi, a prendere i campionamenti e tutto il resto, era un personaggio che comunque era stato nei servizi segreti, comunque era un esperto del settore, prende tutta una serie di campioni, quando vado ad analizzare questi campioni, emerge che c'è dell'esplosivo, dell'esplosivo militare, del CEMTEC. Questa questione qui poi arriverà nella commissione, nella prima commissione, e verrà tenuto fermo come ipotesi che ci sia stata un'esplosione, e quindi inizia un'indagine in tal senso. La parte, a un certo punto, poi si scoprirà che non c'è stata un'esplosione dovuta a del materiale esplosivo, poi vi spiegherò perché dal punto di vista tecnico, però si scopre che era successo qualcosa di strano nelle ore precedenti alla partenza del traghetto. Prima cosa, che c'erano due persone a bordo che non dovevano esserci. L'equipaggio li trova, che queste due persone erano in giro per la nave, e li fa allontanare. Poi dopo dicono, ma chi erano questi qui, li avete identificati? No, li abbiamo detto di andare via, sono andati via. Quindi primo punto interrogativo. Secondo punto interrogativo, il nostromo, il nostromo è praticamente come spugna sulla nave dei pirati di Peter Pan, è il capo dei marinai, il nostro uomo fa di tutto, arriva a litigare per andare via. Il nostro uomo di Lauro si chiama, di cognome, in modo che secondo alcune ricostruzioni è stato un po' curioso, perché lui diceva di avere dei problemi a casa, a Giaia a casa, classico, e scende, ma poi non andrà mai giù a Napoli, ma rimane sul Livorno. Ora, io voglio essere, appunto, non garantista, ma semplicemente realista. Uno può avere tanti motivi per dire la bugia, mi è morta la nonna, mi è morto il gatto, mi è morto il gatto della nonna. Capita sempre, capita spesso, che si scenda, che si cerchi, li prende un giorno di ferie, che non si ha voglia di fare qualcosa, oppure perché c'è qualcosa di più importante da fare, qualcosa di più interessante. Quindi potrà avere benissimo un amante sul Livorno e aveva tutte le ragioni di fare come gli pare, ok? E soprattutto quegli altri due, potevano essere due curiosi, che sono andati per ciacciare la nave, sono andati su ad annocchiata, e sono presi e sono usciti. Però, effettivamente, nell'ottica dell'esplosivo, questa cosa parse quantomeno abbastanza strana. Anche perché si porta con sé il libretto di viaggio. Il libretto di imbarco. Di imbarco, sì. Ma quello, sai, poteva anche essere che lui magari voleva avere un contratto da un'altra... Sai, magari ci sono tanti motivi, tante sfaccettature, che poi, se te cerchi troppo la romanzata, perdi di lucidità. Lui poteva benissimo avere magari la possibilità di fare un contratto con qualcun altro, eccetera, eccetera. Non per forza era lì a voler... Però, curiosamente, diciamo, ci sono questi due fatti molto strani. E poi, perché è importante la figura di Lauro in quest'ipotesi bomba? Perché il Boatrust è un locale veramente, no tecnico, di più, dove proprio devi sapere dov'è, e quindi deve essere un ottimo conoscitore della nave anche proprio per arrivarci, entrarci e farci qualcosa. Ora, sempre nell'ottica della bomba, poi c'era anche un altro scenario che emerse, che sai che comunque siamo in Italia, abbiamo avuto Gladio, e sappiamo quanto la Sardegna sia stata importante per l'addestramento degli uomini di Gladio, penso a Salto di Quirra, penso ad altre proprio basi di addestramento che erano in Sardegna, e quindi che un traghetto della Sardegna potesse essere usato per portare delle cose che non si doveva sapere nessuno, che devono essere portate, esplosivi, robe varie, armi strane, poteva essere tranquillamente una sorta di cavo per qualche organizzazione terroristica, per qualche gruppo segreto tipo Gladio, quindi anche questa cosa qui emerse un pochino, e non è che sarebbe poi, poteva apparire tanto strano, e che quindi quell'esplosione lì fosse o dovuta a materiale che, seppur appunto lì, semplicemente immagazzinato lì, al momento dell'esplosione, per simpatia esploso, oppure che proprio ci fosse un ordigno. Come vi dicevo qualche volta fa, quando si parlava di Emanuele Orlandi, che il Moby Prince è stato uno delle ultime, per alcuni è stato, proprio per questo motivo, uno degli ultimi strasciche della strategia della tensione, proprio come ustica del mare, però inteso proprio come attentato della mafia, perché un'altra cosa che fu pensata era che era un attentato anche mafioso, però non rivendicato, visto la gravità di quello che era successo. Però poi con la seconda commissione parlamentare si sono andati a vedere effettivamente la tipologia di esplosione, e quindi mi piace un attimino di spiegarvi qual è la differenza che è stata riscontrata, e quindi tra un'esplosione di esplosivo e invece quel tipo di esplosione che si è manifestata, ed è praticamente questo. Allora, quando c'è un'esplosione di materiale esplodente, di tipo esplosivo, quindi il tritolo, piuttosto che la polvere nera, piuttosto che l'anfo, insomma, queste sostanze, quando vanno ad esplodere, che sono detonanti, quindi hanno una velocità superiore a quella del suono, assai superiore a quella del suono, creano una strisciata nera, come quando fate scoppiare i botti di capodanno a terra, che vedete che intorno si fa quella specie di farfallina nera di bruciature. Perché? Perché data la velocità di esplosione, nel momento in cui questo materiale esplodente va a contatto con una superficie, il residuo di carbonio in combusto lascia questa scia nera. in quel bow thrust, invece, l'esplosione non presentava questo tipo di macchia. Poi, seconda cosa, quando c'è un'esplosione di un materiale esplodente, come quelli poi repertati lì, che tra l'altro poi rifacendo le analisi hanno visto che c'era un po' di tutto, quando hai quel tipo di esplosione tendi ad avere anche una proiezione di materiale che non riesce, è velocissimo, però non tutto vuoi per piccola imperfezione, vuoi per assenza di ossigeno in quel momento, perché anche lì c'è un coefficiente stechiometrico da rispettare, quindi hai un bisogno di ossigeno, di moli d'ossigeno per moli di esplosivo. Quindi, inizialmente, non hai tutto al materiale esplodente che detona, ma hai una combustione parziale e poi pian piano tutto si brucia, però alcune parti tipo sassolino vengono proiettate contro le pareti circostanti, creando delle lacerazioni molto particolari e riconoscibili. Questa cosa non c'era, neanche questa. Altre cose che hai, hai degli squarci molto evidenti e lì ci sono, ma sono dovute a saldature saltate e solo una perché poi a un certo punto il camion che era sopra è rimbalzato per l'esplosione, ha creato dei danni, quindi non erano quelli squarci che ci si aspettano dall'esplosione dovuta a materiale esplodente di tipo militare o da cava. Quindi, qual è stata la ricostruzione finale? che ciò che è esploso è stato il gas proveniente dalla petroliera che risucchiato dagli aeratori che sono a prua del traghetto hanno portato questo gas esalazione di petrolio dentro fino dentro praticamente il garage del traghetto. Poi questo gas si è depositato come il GPL se vuoi sapere il GPL tende a mettersi sul pavimento quindi questo gas è entrato fino giù in basso nel boat rust si è auto-innescato poi quando il traghetto ha preso fuoco la fiammata è arrivata fino giù quando è arrivata lì è esploda a contatto con quella massa in più perché in basso ce n'era tantissimo è esploso questo gas quindi il gas che veniva semplicemente dalla petroliera ha creato questa bolla esplodente all'interno di questo magazzinetto piegando tutto intorno allora da dove vengono tutte quelle tracce praticamente vedendo poi la relazione della commissione parlamentare della seconda commissione parlamentare si vede come sono state stoccate questi materiali praticamente erano dentro uno scatolone in un magazzino pieno di altre sostanze esplosive e quindi erano tutte contaminazioni dovute a sia in fase di repertazione che in fase di stoccaggio e quindi tutto il materiale alla fine era risultato contaminato semplicemente per errori procedurali quindi da un punto di vista bene che non sia stato un attentato perché insomma sarebbe stato ancora più vile la cosa però purtroppo come dire un'altra opzione che quantomeno avrebbe permesso di mettere quantomeno un po' una pietra sopra all'argomento e cercare di avere quantomeno una verità storica anche quella è spumata però è rimasta questa questione dell'agip abruzzo in fiamme prima ancora dell'urto tra le varie ricostruzioni appunto molto importante è l'angolo di urto del traghetto contro l'agip abruzzo secondo la prima commissione si parla di un angolo di 70 gradi secondo altre ricostruzioni invece quest'angolo non è proprio così io anch'io ho qualche dubbio che l'angolo identificato dalla prima commissione sia corretto fatto sta che con la seconda commissione hanno partendo da quell'angolo lì hanno fatto tramite il cetena che è un'azienda che fa ingegneristica che fa tutte ricostruzioni computerizzate di sinistri studi appunto con dei software e dei simulatori partendo da quell'urto lì e ipotizzando varie rotte hanno ricostruito quella che poteva essere il percorso del traghetto e in entrambi i casi alla fine perché comunque anche se vai a ipotizzare l'altra ipotesi che non è l'urto a 70 gradi ma è l'urto proveniente praticamente no l'urto proveniendo da destra verso verso la nave ma da sinistra andando verso la nave a Geppabruzzo in entrambi i casi emerge che il traghetto e questo è il grande successo della seconda commissione è quello che deve per forza far sì che tutti gli italiani chiedano che venga attivata una terza commissione comunque sia comunque vai a ricostruire il percorso del traghetto visto comunque il tipologia di rotta che aveva all'inizio e di urto che ha avuto c'è stato un impatto antecedente a quello con la Geppabruzzo con un'altra nave o almeno una nave che abbia tagliato la strada al Moby Prince quindi la commissione è finita perché il diciamo il la legislatura è finita anzitempo mancano ancora di sentire gli ultimi testimoni importanti per ricostruire l'ultima parte quindi gli ultimi sei minuti prima dell'impatto e però la certezza ormai pressoché scientifica è che qualcosa abbia disturbato la navigazione del Moby le ipotesi sono la 21 October una nave somala che era una specie di come dire di nave che doveva essere una fattoria del mare le chiamano praticamente un peschereccio che serviva per pescare e poi preparare i pesci per suggelarli eccetera che in realtà poi secondo Ilaria Alpi e Rovatin due giornalisti che credo tutti conosciamo e sappiamo cosa è successo pare che indagassero su questa nave perché oltre ai pesci portava anche armi e spazzatura come si chiama i rifiuti tossici i rifiuti tossici esatto non era oil for food ma armi for garbage toxic garbage praticamente cioè noi davamo armi in cambio che la Somalia si prendesse armi e insomma rifiuti tossici a quanto poi secondo la ricostruzione e questa nave in quei giorni era lì sul porto di Livorno in riparazione altra ipotesi è che una bettolina appunto quella che secondo superina poteva essere andata addosso e ora sulla bettolina parliamo dopo un attimino perché poi si va in un'altra questione parlando della bettolina e altra ipotesi ancora è la nave americana perché perché quella sera in rada nel porto di Livorno c'era un passaggio di armi tra alcune navi militarizzate e il camp derby che è una base americana tra Livorno e Pisa quindi ci sono queste tre navi nel mirino una bettolina la 21 ottobre e la praticamente Teresa barra Cape Breton ora secondo alcune ricostruzioni c'è un coccio molto in alto mi pare tipo a 16 metri d'altezza sul Moby Prince che solo dalla Cape Breton poteva essere raggiunto e quindi che poteva essere avvenuto lì l'urto con quale ricostruzione praticamente la Gip Abruzzo prende fuoco il primo incendio il fumo va da sud verso nord e investe la Cape Breton la Cape Breton che come nome radio aveva anche Teresa dice Teresa this is Teresa I'm moving out I'm moving out altra comunicazione strana è blue the passenger ship blue the passenger ship sempre in inglese e poi parte il Mayday quindi c'è quest'ipotesi che la Cape Breton alias Teresa parta perché perché in base dal fumo dell'abruzzo è costretta a muoversi perché magari porta armi magari porta munizioni e per qualunque legge della sicurezza su posto di lavoro se c'è un incendio e c'hai armi a bordo munizioni a bordo te ne vai e loro sono partiti sono entrati nel fumo hanno colpito il Moby Prince e Moby Prince ha sbandato e è andato contro la Gippa Bruzzo altra ipotesi la 21 ottobre stava facendo il passaggio di armi o stava prendendo armi faceva tutto a luci spente per non farsi vedere taglia la strada dal Moby Prince il Moby Prince sbanda per evitarla la Gippa Bruzzo è totalmente al buio va contro la Gippa Bruzzo altra cosa la Bettolina una in particolare sta facendo quindi terza ipotesi sta facendo un bunkeraggio clandestino poi vi spiegherò cos'è parte l'incendio con la Gippa Bruzzo la Bettolina scappa dalla nave a Gippa Bruzzo nello scappare disturba la navigazione del Moby Prince che va a sbattere contro la Gippa Bruzzo quindi queste sono le tre ipotesi con cui è finita la seconda commissione e per chiarire dovrà essere per forza attivata almeno una terza commissione perché c'è il dubbio che la magistratura non abbia ancora tutta sta voglia di partire cos'è il bunkeraggio clandestino e da qui poi andiamo poi a quello che è il movente perché la cosa più imbarazzante non è tanto l'incidente in sé ma il fatto che qualcuno quella notte in mezz'ora ha deciso che quella nave non doveva essere soccorsa i passeggeri dovevano morire e qualsiasi cosa stava avvenendo quella sera doveva essere tenuta segreta al mondo quella è una cosa tremenda e quindi quale movente può giustificare una decisione del genere anche perché è stato molto difficile capire che posizione aveva l'agito abruzzo dove si doveva con precisione anche perché lo stesso Superina dà 3-4 posizioni diverse già durante la sera mentre i vigili del fuoco dicevano non vi vediamo dove siete e dava continuamente delle posizioni sbagliate ma poi appunto si parla di bunkeraggio clandestino bunkeraggio clandestino cos'è? allora il petrolio voi sapete che c'è il petrolio il petrolio ci sono vari tipi di petrolio ci sono più densi meno densi l'Iranian Light è un petrolio appunto leggero abbastanza leggero diciamo medio non mi ricordo bene com'è sulla scala il petrolio poi viene raffinato viene raffinato e praticamente come se venisse bollito la parte più alta e rarefatta chiaramente il gas e anche l'esalazione del petrolio è il GPL poi in ordine quando viene appunto sottoposto a questa bollitura la parte quella più raffinata che rimane più di alta qualità sono le benzine poi il cherosene poi abbiamo il gasolio i gasoli quelli da tipo ferroviari agricoli quelli un po' più di bassa qualità e poi rimane una parte che si chiama bunker o bunker ok quella parte lì è un petrolio di praticamente una parte che poi può essere riraffinata a sua volta e crea di nuovo gli stessi prodotti però di una qualità leggermente peggiore e il bunkeraggio è praticamente questo materiale qui comunque è anche usato come carburante per le navi quindi il bunkeraggio è quando le bettoline dei vari fornitori che ci sono privati sui porti portano questo bunker che è praticamente il carburante con cui vanno le navi e vanno a fare i bunkeraggi vanno a fare il pieno alle navi in rada all'epoca non si potevano fare i bunkeraggi notturni quindi qualcuno sospettava che fosse un bunkeraggio clandestino fatto per arrotondare poi altra ipotesi che è stata fatta è quella dello slot lo slot cos'è è praticamente una sorta di cisterna in cui vanno tutta una serie di prodotti di scarto lavaggi sentine oli in combusti eccetera eccetera che poi viene e può essere scaricato dalle navi qualunque nave solo in alcuni porti laddove esiste un depuratore diciamo tra virgolette un un'azienda che te lo recuperi in realtà anche quella roba lì veniva contrabbandata all'epoca o comunque riuscivi a liberartene in modo un po' più così fresco diciamolo così con alcune complicità di alcuni imprenditori ok ora ma una questione sì uno slot che valore 4-5 milioni di lire vale la pena di non salvare le persone su un traghetto cioè dover giustificare che una nave era andata a prendere un po' d'acqua di sentina sporca e quindi dire ok ma sì ma l'abbiamo preso che quello giustifica davvero il fatto di lasciare morire in mare 140 persone è quello il dubbio grosso cioè davvero una motivazione così bassa cioè voler salvare un piccolo racket e appunto porta il comandante di un porto a lasciare morire le persone anziché mandare i soccorsi poi altra altra motivazione è la classica il costo di stare nella Nato appunto Ustica è stato uno dei tanti costi di stare nella Nato e del fatto di avere la moglie americana e come dissi l'altra volta e l'amante libica il costo è statustica è stato anche l'Achille Lauro è stato anche Sigonella è stato anche Emanuella Orlandi ok ci sono delle insomma dei rapporti geostrategici che hanno questo tipo di costo e quindi quello che è avvenuto è una Ustica del mare e quello che stava avvenendo nella Rada di Livorno era uno dei tanti costi di questo club esclusivo anche lì ma giustifica perché quella sera c'erano troppe navi degli Stati Uniti c'erano troppe navi che portavano armi infatti si era appena finita la prima guerra del Golfo Sì la della Stati stava quella della Jugoslavia anche quindi troppe troppe armi secondo me c'erano quella sera troppe navi con armi a bordo e infatti secondo alcune ricostruzioni la Cape Breton che veniva chiamata così in realtà non era proprio nemmeno la Cape Breton ma questa Teresa e quindi era tutt'altra nave che al momento non si sa quali sia però te poi pensi effettivamente quello che è successo per il Cermis Cermis lo stesso anche lì una ventina di morti un cavo tagliato da un aereo e nessun tra virgolette nessun colpevole quindi ma anche stavolta abbiamo avuto un movente di segretezza tale che sia poi intervenuto subito perché il fatto è che subito in mezz'ora avevano già deciso che quelli dovevano morire quella la follia infatti quando si pensa guardava la partita chiediti perché a qualcuno fa comodo di dire che guardava la partita perché veramente c'è un movente talmente indicibile da permettere di ammazzare 140 persone è veramente bisogna vedere che tipo di armi trasportavano perché c'era c'è stato anche il capitano della guardia di finanza gentile che ha detto di aver visto caricare o scaricare delle armi bisogna vedere che tipo di armi fossero quelle che c'erano quella sera nel porto di Livorno che sembrava piuttosto una base navale americana che no ma quella è ma il porto di Livorno dal punto di vista strategico è importantissimo infatti una delle questioni che il presidente romano Andrea Romano della seconda commissione ha preteso di avere erano i tracciati radar sovietici perché quelli americani ce li abbiamo quelli abbiamo trovato anche qualcosa insomma qualcosa abbiamo trovato nella relazione finale ci sono però mancano quelli sovietici e la Russia ha detto no ma non ce l'abbiamo cosa che a dirla insomma è un po' strana altra cosa che comunque va degna di nota è che la commissione ha chiesto a Draghi all'epoca presidente del consiglio di desecretare tutti i documenti relativi al Mobi Prince che dovessero essere in possesso degli archivi riservati e Draghi ha detto che non ci sono quindi questa cosa qui da un punto di vista è molto interessante perché il documento riservato tecnicamente la tutela del segreto a livello del segreto di Stato e quindi i servizi segreti dipendono dal presidente del consiglio di norma ci sono dei dati riservati che sono più o meno 30-40 anni sono quelli più importanti e se no ci sono anche quelli a 10 anni e comunque vanno rinnovati ciclicamente ora per Mobi Prince che non ci siano documenti riservati da un punto di vista è comunque curioso da un punto di vista visto quello che stava succedendo quella sera ma fa ben sperare dall'altro che magari veramente non ci sia stato un problema dovuto a queste armi ma che davvero sia allora a quel punto una combriccola vigente pagata dal padroncino che si è messa d'accordo e per salvare quei 5 milioncini di mazzetta che gli arrivano ogni tanto hanno fatto morire 40 persone quindi è un tassello molto importante di questo di questa ricostruzione il pensare che non ci siano altri documenti riservati o comunque particolari documenti riservati con tutela di Stato da dei segretari insomma da come dire una come potremmo dirla una pedina una carta sul tavolo che spariglia un attimino e quindi qual è la questione adesso quello che io invito chi ha amici di qualsiasi schieramento politico noi abbiamo la fortuna di avere già due onorevoli di due partiti uno mio caro amico e due miei cari amici tra l'altro quindi spero che facciano di tutto per riuscire a fare una terza commissione per chiudere quello che però chi ha amici calcolate piccola interruzione Luca ha amici molto in alto nella politica italiana di di no ora comunque chi ha amici di qualunque schieramento politico meglio perché più partiti e più persone dei partiti di tutti i partiti sono d'accordo più è facile far ripartire una commissione d'inchiesta e visto soprattutto che è stato molto proficuo perché ha tolto veramente un velo imbarazzante di insabbiamenti di nebbie volute di falsità di depistaggi di di bugie menzogne con l'impegno appunto cioè addirittura finalmente la politica rispetto a quello che normalmente siamo portati a pensare riesce a risolvere una questione che anzi era di mala giustizia quindi è il contrario di tangentopoli fra virgolette quindi se avete amici di qualunque schieramento politico che siano onorevoli o senatori e avete a cuore questa storia calcolate che appunto non è una storia livornese non è una storia sarda una storia che colpisce quasi tutta Italia perché c'erano persone di Torino c'erano persone di Bologna c'erano persone c'erano dei tedeschi c'erano persone siciliane napoletane insomma è un dramma che ha colpito tutte quasi tutte le regioni italiane c'era un bambino di un anno cioè cosa cosa quale movente giustifica la morte di una bambina di un anno cioè di essere lasciata morire in mare in una palla di fuoco cioè quindi sarebbe giusto di dare cioè trovare chiudere finalmente questa 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 cosa anche perché questa storia perché deve essere sancito che quella tragedia è diventata una strage cioè che qualcuno ha voluto materialmente uccidere e quindi ha materialmente compiuto una strage ed è l'unico modo riuscire a far capire che questa è una strage per far ripartire l'indagine dal punto di vista proprio della magistratura il potere giuridico e poi perché la verità esiste probabilmente è smarrita in qualche ufficio qualche sicuramente quello che hanno detto tutti in qualche studio di qualche avvocato tra le varie scartoffie nel plico Moby Prince la verità c'è perché praticamente appunto ormai siamo come vi dicevo siamo vediamo la luce in fondo al tunnel quindi abbiamo capito che la nave è stata deviata ci sono queste tre palline che girano la Teresa la 21 ottobre e un'altra nave e però come in qualunque gioco di logica come in qualunque gioco di erigmistica due di queste probabilmente non sono state una di queste non era quella che credevano che fosse e si chiamava diversamente una di quelle altre due comunque anche lei ha fatto cose che ha fatto cose diverse da quelle che erano scritte su documenti quindi insomma la la verità è a un palmo di naso la la storia comunque parla di 140 morti la storia parla di famiglie distrutte parla di del grande sacrificio di di due persone soprattutto che sono uno è Loris Loris Rispoli mio carissimo amico che adesso sta sta malissimo purtroppo ma continua a combattere e continua ad apprezzare quando viene anche i risultati che sono stati portati finora comunque e quindi la sua battaglia viene portata avanti dall'associazione io sono 141 e poi Angelo Chessa figlio del comandante Ugo Chessa che per chi ha visto il bellissimo documentario della Rai è morto pochi giorni dopo quel documentario di un brutto male proprio perché vivere questo tipo di di sofferenze lascia lascia una ferita non solo nell'anima ma poi anche si ripercuote fisicamente queste persone quindi Loris con una gentilezza incredibile una persona che mi ritengo di aver avuto la fortuna di conoscere e di poterci parlare e Angelo con una tennaccia invece incredibile sono riusciti a io mi ricordo le 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 battaglie con tutti i partiti che facevano per cercare di avere la prima commissione la seconda è arrivata quasi naturalmente avendo anche lì avuto la fortuna di avere anche De Falco per dire c'era in in Parlamento c'era c'erano appunto due due onorevoli livornesi che appunto romano e potenti che hanno spinto moltissimo per e gli va dato atto al presidente romano del insomma dell'intuizione di proseguire con questa con la vecchia commissione Lai quindi insomma la battaglia ha fatto tanti morti ha fatto tante sofferenze però c'è ancora tanto da scoprire e insomma la verità è vicinissima ormai come dire la verità è accerchiata ok si sa più o meno cosa è successo c'è da dare gli ultimi nomi ai responsabili e poi sarebbe una volta ogni tanto la classica tragedia italiana che diventa un mistero potrebbe diventare invece qualcosa che conosciamo allora ci senti sì però io sento il ritorno della mia voce ci avete no no ti si sente bene so io no no ora no ora no ora mi senti però te sì ok ok allora mi senti allora intanto Luca grazie perché questa io la chiamo arringa di questa cosa si sentiva si sentiva che veniva dal cuore perché tu comunque io vedo tutto buio non ti vedo ma va bene so che ci sei perché c'è la lucina e so che questa cosa ti ha colpito molto e alla fine poi l'hai detto hai conosciuto anche alcuni personaggi quindi questa cosa ti ha diciamo toccato più delle altre purtroppo ancora oggi dopo 91 2001 2001 2001 2001 dopo 33 anni 32 anni ancora in realtà non sappiamo è un po' come la io le dico dicono di sì è un po' come il Bayon dopo tanti anni sono morte tante persone la realtà dei fatti ancora non si viene a sapere un po' a me mi dà l'impressione che sia quando succedono queste stragi tipo Ustica tu l'hai nominata prima tipo Ustica la strage questo qua del Bobby Prince che nessuno naturalmente come come capita sempre nessuno voglia prendersi la responsabilità di aver causato un determinato atto anche perché se fosse lo Stato a prendere la colpa dovrebbe risarcire di milioni e milioni di euro quindi farebbe di tutto pur di nascondere la verità come tu naturalmente hai detto prima cioè tu hai ipotizzato diversi scenari sappiamo bene che potrebbe essere di tutto di più il fatto che queste persone non fossero a farsi lo possiamo dire tanto questo podcast va di notte quindi erano a farsi i cazzi propri in realtà stavano lavorando come giusto appunto avevano il non mi ricordo ora come si chiamava quello il superstite Bertrand aveva testimoniato dicendo perché loro volevano far passare tutti non tutto l'equipaggio ma la maggior parte come degli scansa fatiche che quel giorno erano lì tanto per e quindi la colpa era solo esclusivamente loro e chiudere il caso come disattenzione umana come ci sia successo vabbè la realtà dei fatti poi come abbiamo visto anche nel tuo racconto ci racconta scusa il gioco di parole ma ci racconta una storia diversa io non lo so non lo so se poi alla fine noi riusciremo a trovare diciamo una fine no il il bindolo della matassa come si dice bindolo si chiama non so si chiama il bindolo no il bindolo lo diciamo qua il bindolo diciamo qua il bindolo vuol dire si dice qua franca bindolo vuol dire il bindolo il bindolo è lo scemo vabbè è il scemo della matassa vabbè sono scusatemi io oggi questa è la terza registrazione che faccio quindi in più ho dovuto anche lavorare quindi perdonerete per questo mio errore non so se riusciremo a trovare il bandolo della matassa io sono convinto che dopo tanti anni ormai più andiamo avanti con gli anni più le persone che erano coinvolte anche se erano coinvolte marginalmente cominciano a morire e quindi si arriverà quando poi non rimarrà più nessuno questo mi ricordo un po' il mostro di Firenze che quando si poteva non si voleva non si è voluto secondo me andare fino in fondo ora che c'è la volontà ci sono le persone personaggi molto molto vuol dire incisivi personaggi che vorrebbero trovare una una verità come gli ultimi avvocati che stanno facendo richieste e vengono comunque frenati perché ora la verità quella vera mi ricorda qualcosa rimarrebbe un po' scomodo che dire io non avevo delle cose a dire ma le hai dette tutte te quindi non posso non posso vedo che la Franca sorride quindi penso che anche lei sia del mio stesso parere se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti io ti dico la verità passerei a Liliana a Liliana sì sì no l'unico paragone che farei con col mostro in questo caso sai che a me ogni tanto faccio anche parallelismi proprio la questione di un sistema come la magistratura che di norma è abbastanza efficiente nella stragrande maggioranza dei casi è abbastanza efficiente riesce a fare il suo lavoro più che egregiamente però ogni tanto ci sono queste zone grigie dove alcune consorterie vengono in qualche modo nascoste tutelate aiutate e penso ad esempio a un'anonima qualunque che proprio nel periodo del mostro di Firenze in qualche modo potrebbe essere stata aver negoziato un silenzio generale su quello che era successo per il mostro di Firenze per magari un bene superiore chiamiamolo così la speranza è sempre quella appunto che dice ok la magistratura ha insabbiato ha fatto morire 140 persone e nessuno colpevole però per un bene superiore perché quello che che l'unica cosa che ci rimane da sperare sia quello cioè che quello che viene tenuto segreto sia per un bene superiore e non per un per un male inferiore no va bene ma come dire come dire si va sempre noi siamo almeno la maggior parte delle persone è sempre pronta a dire no va bene ma sicuramente poi alla fine ci diranno la verità io non ne sarei sempre sempre convinto soprattutto su alcuni casi non voglio essere ripetitivo insomma ma anche su lascia stare le stragi che sono veramente importanti sono ci sono tanti casi che a meno intorno il rapimento del dottor Davide Cervia lo conoscete sì il dottor Davide Cervia a Vetrana il mostro di Firenze cioè ce ne sarebbe da di e tanti di tanti casi quindi spesso facciamo finta anche di non vedere no ci siamo all'altra parte ok si è stato dico senza voler sollevare sua polemica perché non ho voglia è stato Pietro Pacciani il mostro di Firenze appunto quindi la prima repubblica ci racconta questo un po' come Liliana Resinovic che introdurrò così per la maggior parte delle persone è stato a farla fuori anche se c'è una perizia che dice che nessuno l'ha fatto fuori però gli utenti dicono che è stato il marito la perizia dice no e loro dicono sì io a chi devo dare retta Luca io ho visto appunto la bella intervista che avete fatto chiacchierata dai l'altro giorno l'ho intravista e pensavo appunto in quel momento lì a tutti quelli che erano lì che pensavano ah è lui è stato lui perché guarda vedi vedi perché c'ha il sopracciglio il sguardo io lo so che ti hai pensato ti hai pensato Barotto non fa domande incalzanti quindi fa cagare lui lui no no io figurati no ma anch'io non avrei mai fatto gli interrogatori cioè scortesissimi ma no ma era ma era allora il mio è un canale di divulgazione divulgazione con le persone che ritengo siano corrette da far venire qua che sappiano e quindi non diciamo attento per chiedergli quella notte che aveva fatto ma che cazzo gli devo chiedere io gli chiedo le cose che sì è vero ce l'hanno tutte allora se non vi va bene voi chiamate i visitin e gliele chiedete voi le cose io non sono poliziotto ma te gliela potevi fare no le domande incalzanti io non gliele posso fare va bene non posso farle non sono neanche le dita d'allarbo dei pubblicisti io ma dove cazzo mi avvio cioè che mi ti voglio dire quindi questo è quanto però vabbè dettoci allora io però volevo sapere un po' una franca bene o male so cosa pensa del caso quindi non vorrei andare comunque oltre no al suo pensiero anche se di qualcosa ci mancherebbe è liberissima di farlo anzi se vuoi dire qualcosa prego niente mi chiedevo perché questo fatto di dover incalzare Sebastiano non sia invece venuto fuori per esempio quando è stato ospite Covalero perché invece nessuno ha detto perché non l'hai pressato Covalero solo Sebastiano bisogna no ma perché allora Luca te questa cosa me la dai te me la dai per come dire per quasi certa no quando succede qualcosa no tra marito e moglie e la moglie viene uccisa la prima persona che vanno a indagare per default è il marito per default che poi essere entrato te fai te vai per cerchi concentrici cioè in realtà adesso la prima cosa che vanno a vedere è il telefono seconda cosa è appunto il marito se c'ha l'amante se c'ha il fidanzato se c'ha un ex marito un ex fidanzato uno stalker diciamo da compagnia ecco e poi pian piano vanno il fratello l'eredità il genitore il figliolo un pazzito capito pian piano poi estendo però parti sempre dal e poi l'ultimo è il maniaco il serial killer certo e poi chiaramente quando non trova nulla la setta satanica i servizi segreti gli ufo eccetera eccetera la rosa rossa eccetera sì la rosa rossa è chiaro quello che che però appunto io io inviterei le persone che danno la colpa al Sebastiano di turno ma anche a Claudio perché così perché ecco perché è stato lui io direi ok te pensa se mori il tuo vicino di casa vengono da te ti dicono ah per me sei stato te perché ah perché sì non funziona sì il diritto romano la giustizia il diritto non funziona così cioè non è che che una persona perché ti sta antipatica la condanni e magari poi gli fai anche una condanna perché a quel punto cioè ci deve essere minimo il gastolo linciaggio la pena di morte il cilicio a vita le frustate no perché giustamente visto che insomma il giudizio a pelle la punizione deve essere esemplare no tipo la ghigliottina non funziona così non funziona così ci vogliono le prove ci vogliono per contattare una persona poi come vi dissi l'altra volta ok c'è una fase che è l'omicidio ok poi ci sono le indagini fatte le indagini poi c'è il processo e il processo volente o nolenti è tutta un'altra storia è un'altra partita che si apre e uno può anche uscire in fondo innocente per la sentenza però essere colpevole perché innocente perché non ci sono abbastanza prove innocente perché semplicemente non ha commesso il fatto e quindi bisogna anche avere la pazienza di capire che non è che trovi il colpevole e lo sbatti in galera e vissero felici e contenti no e trovi il presunto colpevole che però per la nostra costituzione è innocente fino a prova contraria quindi il presunto colpevole va un po' in contraddizione col fatto che è innocente fino a prova contraria devi trovargli delle prove addosso che stiano in piedi e poi devi fargli fare tre se non quattro ordini perché c'è anche la corte di Strasburgo livelli di processo e lì e poi vedere se lui alla fine è colpevole quindi purtroppo la macchina della giustizia è una macchina complessa non funziona con la ghigliottina in piazza non funziona con è stato lui perché è stato lui se c'ero io l'avevo già beccato non funziona così servono le prove serve un lavoro molto serio di analisi dei documenti di autopsie fatte bene di indagini fatte come si deve perché ultimamente si è parlato molto della famosa cartuccia di Pacciani ma pensate se ve lo facesse da voi che mi trovate un proiettile in giardino e magari non è nemmeno vostro pensate quanto è complessa la macchina cosa vi può capitare e non è l'unico caso quello di Pacciani ammettendo che sia proprio un imbroglio ok quel famoso gingillino nel giardino invecchiato con una tecnica ma ma anche una bomber albo zornitta le avevano trovato le avevano fatto le forbici modificate con un taglierino per far vedere che aveva tagliato il lamierino quindi non è niente di strano quindi pretendere la forca a destra e a sinistra poi si rischia di portare l'inquirente fragile a fare anche queste queste colbellerie qui e poi magari uno che è veramente colpevole proprio perché uno pur di mettere un galera fa la cavolata perché c'è la pressione addosso perché è convinto che ormai sia così si è innamorato della teoria e poi comunque fai un danno inenarrabile quindi se qui siamo sempre alle solite più che viene detto che Liliana per 20 giorni è stata altrove come si fa ancora la colpa a Sebastiano io non capisco cioè me lo devono motivare io non ho un colpevole favorito lo sapete non è che finché non vedo i documenti non è che posso l'autopsia non posso davvero prodigarmi colpevolismi vari ma cavolo se per 20 giorni lei non è stata in casa è stata altrove ma come fa essere Sebastiano ma dove l'ha tenuta ma allora prego dove l'ha tenuta io ho questa sensazione che probabilmente è un una sensazione per adesso che probabilmente gli inquiretti chiuderanno per suicidio con grande probabilità secondo me ma a Sebastiano rimarrà comunque l'alone dell'assassino lui sarà comunque considerato l'assassino di Liliana nonostante che non ci sono prove che sia stato lui ha ribadito il suo alibi con l'intervista si è parlato dell'alibi ha ribadito il suo alibi ho questa sensazione che il processo mediatico abbia creato il mostro che in realtà non c'è io ho visto un uomo piuttosto provato molto legato alla moglie che probabilmente lui stesso si sta chiedendo perché Liliana si sia tolta la vita e nonostante questo sono convinta rimarrà lui il colpevole anche se gli inquiretti dovessero chiudere per suicidio della donna come sembra perché parlevamo prima di prove la perizia medico-legale è una prova e quella perizia dimostra che la signora Liliana non ha subito aggressioni non si è difesa non ha nulla sotto le unghie ed era lì da due tre giorni e tutto porta al suicidio che sarà quello che probabilmente farà chiudere le indagini e credo che siamo vicini ormai alla chiusura delle indagini certo fossi io il familiare di Liliana anch'io se mi dessero la possibilità chiederei nuove nuove indagini sicuramente con con la risumazione del cadavere se sarà concesso se sarà concesso però quello io anch'io quello lo farei anch'io quantomeno anche per capire effettivamente a questo punto dove è stato anche i venti giorni perché cioè io appunto punterei ipotizzare quindi altri tipi di reato cioè effettivamente già c'era quello che dicevamo il sequestro di persone quindi quello morte in come si dice in conseguenza di altro reato esatto capito quindi bene o male si potrebbe ipotizzare quello e la speranza è che non archivino anche perché comunque un po' ci hanno speso dietro anche per fugare con il dubbio non economicamente tanto perché non hanno ancora indagato nessuno però c'hanno come di quanto meno di attenzione pubblica quindi c'è una grossa e chiude come così archiviare per suicidio e festa finita beh non lo so quanto gli convenga poi come procura comunque comunicativo quanto meno anche perché Sebastiano ha ribadito che lui quella mattina l'ha lasciata in pigiama quindi uno dei punti ancora da chiarire è quello gli abiti che poi portava Liliana al momento in cui viene ritrovata a lui a Sebastiano non gliel'hanno fatta vedere quindi non lo sa che tipi di abiti portava ma non è detto che fossero gli abiti tolti dall'armadio per esempio può essere che gli acquistati che erano abiti nuovi in un'eventuale fuga magari portandosi dietro del contante però Sebastiano questo non lo sa perché non l'ha vista né vestita quando è uscita di casa né nel suo corpo una volta ritrovato questo è un punto importante invece probabilmente gli inquiretti avranno fatto delle foto sugli abiti che indossava secondo me dovrebbero fargli rivedere questi abiti per vedere se erano abiti che provengono dall'armario e non abiti del tutto nuovi o che li sono stati messi in seguito invece Sebastiano lo ha ribadito molti insistono ancora adesso nel dire che è stata ritrovata con gli abiti con cui è uscita di casa ma nessuno lo sa con quali abiti è uscito di casa posso immaginare che gli inquiretti hanno visto i video di quel giorno quindi probabilmente era lei in quei video e magari hanno potuto vedere il pantalone o la gonna quello che portava ma certo non hanno potuto vedere quello che teneva sotto il giubbotto per esempio come non ha potuto vederlo la fruttivendola infatti la fruttivendola parla del giubbotto ma non di come era vestita quindi in realtà non sappiamo se gli abiti che indossava quando è uscita sono gli stessi con cui è stata ritrovata io continuo a pensare questo che io Sebastiano l'ho escluso quasi da subito dai sospetti penso che sia molto confuso addolorato nei confronti della moglie però non vuole mostrarlo per questo dà l'idea di essere freddo di essere distaccato io invece l'ho visto come una persona molto molto ferita da tutta la situazione gli si danno dei consigli gli si dice di denunciare ma lui non vuole denunciare non so perché non voglia farlo anche perché più volte è stato chiamato assassino da alcune persone in diretta televisiva avrebbe tutti tutte le ragioni per poter denunciare queste persone non so se aspetta la chiusura delle indagini non lo so lo vedo ferito molto abbattuto forse in depressione dal punto di vista se cominciasse a denunciare tutti i veri li danno dell'assassino poi a un certo punto sarebbe anche la figura di quello che un po' no la sta gestendo in modo un po' troppo per quanto appunto sono d'accordissimo dovrebbe farlo perché la calunnia soprattutto in queste situazioni merita di essere punita da questa gente che si erge a a salomone no che vuole dare le colpe a denso e sinistra assolutamente no ma lo sai cos'è che mi fa molto ridere perché veramente poi alla fine questa cosa mi fa molto ridere è che allora tu hai detto prima io ora vi dico che voi mi dovete dire qual è la ragione per cui pensate che sia Sebastiano dove stanno a parlare molto semplice per molti non dico per tutti per molti la perizia il dottor Costantinini fa cacare lo voglio dire proprio pur essendo contadini operai casalinghe medici di base tutto quello che ti pare fa cacare quindi facendo cacare Liliano non è morta il 3 ma è morta il 14 paradossalmente il 14 quest'uomo aveva anche l'alibi ma l'alibi fa cacare pure l'alibi quindi è stato Sebastiano cioè non si tengono di conto determinati fatti eh ma lui le camere chissà se la via ma secondo molti cioè la polizia non è andata a guardare allora se io vado adesso vado a testimoniare per una determinata cosa di guarda io ho fatto questo questo e quest'altro certo che vanno a controllare non mettete in dubbio che la polizia vada a controllare o meno ma sì se muore la ragazza di Corna di Luca va bene perché la madre no Corna è ipotesi pure ricordo pure no no Corna facendo no vabbè e lui poi dovrà dire sono stato qui sono stato in caserma sono andato qua lo controllo certo che lo controllano è la prima cosa che fanno perché mettete cioè voi piuttosto che dare piuttosto ne riuscire a dare la colpa a Sebastiano per voi la polizia non controlla come un utente l'altro giorno mi ha detto io stasera parlo così ma Notta ma che cazzo stai dicendo la relazione tra Liliana e Sterpin era palese c'è anche un messaggio che dice caro amore mio non vedo l'ora di stare con te per passare il resto della mia vita ma che cazzo dite ma che cazzo dite dov'è sto messaggio ma mi trovate mai sentito questo messaggio è come la storia della ricerca sul divorzio ora non so se Luca ha seguito la domanda non è come divorziare senza pagare l'avvocato non mi ricordo com'era è diversa la domanda la domanda è quanto tempo ci vuole per divorziare che segno che lei forse cercava per una persona separata che voleva sapere quanto tempo doveva aspettare per ottenere il divorzio esatto esatto le cose che sono circolate forse hanno detto bene gli inquirenti quando hanno detto circolano delle scemenze probabilmente non corrispondono proprio a come sono andate le cose come alla verità sono circolate delle cose un po' aggiustate a seconda di chi le riferiva queste cose sono venute fuori a seconda chi si voleva dare la colpa alla fine probabilmente non è colpevole nessuno della morte di Liliana ma mi riferisco ai parenti lo sono un po' tutti a livello morale nel senso a partire dal marito nel senso che se Liliana si è suicidata non hanno capito lo stato d'animo di questa donna ed è un po' la responsabilità di tutti Sebastiano l'ha detto già qualche volta questa cosa non posso capire non riesco a capire perché non mi sono accorto dei problemi che poteva avere mia moglie l'esame di coscienza un po' tutti dovrebbero fare i lockdown sono stati un trigger per tante persone per problemi psichiatrici c'è stata una drammatica impennata dell'utilizzo di psicofarmaci e similari si va praticamente dalla per dirlo tranquillamente proprio si va dall'utilizzo del Viagra per gli uomini fino ai TSO quindi ci sono dei i lockdown è stato un un trigger per tante persone perché erano appunto latenti o comunque organici e poi sono diventati si sono manifestati pensate un po' a quello che poteva essere è stato un po' quello che se voi pensate ai nonni i classici nonni che dicono ah lì hanno bombardato lì eravamo sfollati lì non so se vi ricordate quando parlate con qualche anziano che è stata durante la seconda guerra mondiale perché loro hanno anche loro hanno avuto questo questi quindi questo disturbo post-traumatico da stress che gli è rimasto latenti gli è rimasto questo ricordo quasi nostalgico del periodo della guerra quindi di quando erano sfollati di quando bombardavano e di quello e di quell'altro noi è durata sicuramente molto meno è stata molto meno come dire violenta però è stata traumatica per il problema opposto durante la guerra chi non era in guerra ma era il civile appunto sfollato poteva godere della compagnia i rapporti erano più forti perché si soffriva insieme si aveva paura insieme e nel lockdown invece siamo stati separati siamo stati divisi è stata persa l'uomo è un animale sociale ed è stata persa la socialità più l'incombenza di una decisione esterna che ti dice te da domani non lavori più non puoi più uscire non puoi più oppure prendi una malattia e per due settimane stai murato vivo in una stanza vai al pronto soccorso vai all'ospedale entri un po' più senti nessuno queste cose qui a tante persone tante persone non l'hanno retta ma tantissimo ma anche persone che fino al giorno prima erano tranquillissime io appunto anche persone che conosco molto molto bene hanno hanno sofferto di questo poi c'è chi invece per indole per abitudine per formazione per tante non le ha fatto né caldo né freddo anzi si sono quasi divertite come sottoscritto io personalmente non mi ha dato strasciche particolari se qualche incavolatura su alcuni argomenti divertito su altri però bene o male non mi sento cambiato da quello che è successo in modo diciamo così drammatico però ho visto tanti soprattutto anche quelli che hanno avuto chi ha avuto il covid chi ha avuto problemi col vaccino chi invece insomma o di riffa o di raffa ho visto tante persone che comunque sono rimaste un po' segnate da questa vicenda quindi appunto che Liliana potesse avere avuto una così di essere riscattata una molla inizialmente la fuitina per dire la storia d'amore con Claudio appunto come evasione dal lockdown post lockdown e poi invece un crollo di questa fuga che lì per lì lei magari pensava fosse risolutiva e invece poi si è risolto magari che era una ossa sintetica quindi che non dava sterile ok per lei e non ha retto e ha fatto un gesto estremo può essere non sarebbe strano insomma in questo periodo appunto di impennata di sì Luca io sono d'accordo con quello che dici poi razionalmente dobbiamo anche prendere atto di alcune cose si parla di dati scientifici e molti adducono la scienza non è una scienza esatta no? non è esatta ragazzi in qualche modo dobbiamo prendere alcuni dicono eh vabbè ma stanno coprendo qualcosa che cosa ma che copra? cioè io non cioè fondamentalmente per quanto a me possa di piacere sì che ci sia un essere umano deceduto appunto questo a prescindere sia un uomo o una donna e io dico ma ma cosa cosa c'è di strano cioè c'è tante cose però fondamentalmente c'è una donna che probabilmente come dice il dottor con tanti linee perché questo fatto non lo accetta nessuno il fatto che lei potrebbe come dici tu non aver avuto dei problemi poi anche nel knockdown potrebbe essere scattato quella molla fatidica molla e aver deciso di prima di rimanere un po' sola isolata e un po' di io oggi pomeriggio quella è già sul canale perché uscirà domani sera nel momento in cui registriamo domani sera non domenica sera oggi è perché non sapesse noi le registriamo le puntate quindi giovedì però voi la state ascoltando di domenica quindi l'avete già vista la puntata con Covalero domani alle 17 c'è la puntata con Covalero il quale io ho detto l'ho chiesto a lui ho detto guarda tu che la conoscevi erano amici a tanti anni anche se poi lui ha confessato che si erano amici a tanti anni però non lo spoiler però dice che comunque ci sono alcuni momenti che non si vedevano per niente e lui dice e gli ho chiesto secondo te in quei giorni beh ma come questo è normalissimo perché io il mio migliore amico che purtroppo è venuto a mancare quest'anno il mio migliore amico veramente è pure ci si vedeva due o tre volte l'anno perché lui non abita più nel mio palazzo e non abitava più nel mio palazzo e quindi ci si vedeva ogni tanto quando veniva a mangiare dalla mamma però sangue del mio sangue il mio migliore amico è così è normale che poi ci si perda di vista no certo assolutamente sì sì vabbè lui appunto diceva questa cosa io naturalmente gli ho fatto la fatidica domanda come anche lui mi pare aver capito ma insomma non chiedo di sbagliarmi anche lui è convinto che Liliana non si sarebbe mai ammazzata anche perché avrebbe lasciato un billet questo dice lui avrebbe lasciato un bigliettino tutto le pare ma comunque se si fosse allontanata di sua spontanea volontà lei dice che dopo massimo 3-4 ore avrebbe chiamato Sebastiano quindi conferma che c'era un buon rapporto ancora fra i due e gli avrebbe detto guarda Sebastiano voglio stare qualche giorno da sola stai tranquillo cosa che lei non ha fatto quindi per molti non esiste quello che ha scritto il dottore cioè paradossalmente lui ha visto il cadavere lui ha fatto la perizia però siamo diventati l'ho detto anche Covalero durante il periodo del campionato di serie A la domenica si diventa tutti allenatori ora siamo diventati tutti medici illegali prima eravamo tutti la franca ride ma insomma io la vedo prima eravamo tutti come dire virologi io mi è venuto il diabete e sono diventato il diabetologo c'è capito quindi bisogna ragazzi bisogna stare un po' come dire anche a quello che ci dicono è giusto anche informarsi per l'amor di Dio controllare però che veramente che si vada a pensare che ci sia qualcosa sotto io la vedo dura e poi te che sei complottista al mille per cento sei uno di quelli che non lo dice che c'è qualcosa sotto sì che vuol dire che non c'è davvero almeno credo o pensi che ci sia qualcosa sotto c'è sempre qualcosa c'è sempre il trucco c'è sempre il trucco ricordati che Sterpino ha portato una rosa rossa ah vedi ah vedi quindi potrebbe essere però già hanno fatto i due conti non è che quando è che l'hanno trovata lei il 5 poi però è morta o il 3 o il 2 è possibile sbagliarsi di 18 giorni posso capire un errore di qualche giorno sul giorno della morte no l'abruzzone ha detto no sa sacrosanta che se fosse stata cioè alla fine aveva gli occhi in buone condizioni se fosse stata surgelata congelata tenuta in frigo o stata lì eh te qualsiasi cosa però gli occhi già avresti visto che sono comunque molto delicati avresti visto comunque dei grossi fenomeni putrofattivi ad esempio infatti l'unica l'unica cosa forse l'unica debito è che non hanno preso la temperatura corporea la letterale non l'hanno preso no questo può essere un punto a spavore però che possano aver sbagliato di tanti giorni no ripeto io immagino può darsi pure che non è morta il 2 sarà morta il famoso 30 sarà morta ma dal 14 sbagliarsi per così tanti dei giorni mi sembra davvero difficile da come viene raccontato io non lo so Luca su questo non voglio se si parla di programma di sviluppo di sviluppo web posso dire la mia senza alcun problema so di non sbagliare ecco sotto certi punti di vista non ho problemi purtroppo sui cadaveri purtroppo per fortuna perché grazie a Dio non ne ho mai visti anzi ne ho visti uno solo e mi rimarrà impresso tutta la vita non sono esperto di rigor mortis allora il dottor Costantini si è basato molto anche sul rigor mortis e quindi il rigor mortis di una persona deceduta a 24 48 60 ore prima punto allora la mia domanda è il rigor mortis si può modificare rallentare velocizzare allora i fenomeni tanatologici sono fenomeni che avvengono a livello chimico muscolare ok tipo rigor mortis avvengono perché alcune sostanze vanno in decadimento e si contraggono i muscoli questi fenomeni variano in base alla temperatura esterna si accelerano chiaramente col caldo e si prolungano col freddo quindi puoi avere appunto tendere più alle 72 ore col freddo e col caldo invece si sviluppano rapidamente e decadono più rapidamente ad esempio però non c'è una tabella fissa perché ci sono varie condizioni per dirti se muore uno che aveva fatto uno sforzo fisico aveva l'acido lattico in corpo è un conto se non c'era la produzione d'acido lattico a livello muscolare avviene in un'altra maniera quindi nel senso ci sono varie piccole sfaccettature però bene o male tra le 24 e le 72 ore durano questi fenomeni però chiaro se come la mummia di Similaun muori su un ghiacciaio o quelli che sono morti i poverini sull'Everest se vai sull'Everest ogni tanto trovi proprio i morti sul percorso ogni tanto con le malanghe che vanno giù però te ogni tanto trovi e ci sono alcuni hanno proprio i nomi sono noti e si sanno chi sono e ci sono proprio i nomi e sono ormai diventati dei punti di riferimento c'era uno che mi ricordo ha il giacchetto verde si sa nome e cognome tutta la storia di lui e lo vede lì in un angolo ranecchiato sul percorso e quello non gli è mai finito Rigor Mortis perché? perché parte il fenomeno tarnatologico però poi si congela perché lì sei a meno meno enti meno 30 capito? e poi non essendoci ossigeno non avviene neanche la decomposizione che non riesci neanche a far sviluppare tutti quegli animali insetti batteri eccetera eccetera che provvedono alla decomposizione quindi esternamente rimane sul gelato e quindi hai dei fenomeni che possono per questo qualcuno magari ha legittimamente qualche dubbio comunque è inverno e quindi il fenomeno tarnatologico potrebbe essere rimasto latente fisso così in perenne Rigor Mortis per tot anche perché di norma Rigor Mortis si rompe con la manipolazione anche quindi manipolando si sblocca per questo chi fa il chi lavora nelle pompe funebri di solito sono uomini perché spesso proprio per manipolare le salme non è soltanto il peso tanto della salma ma anche il fatto che devi andare a rompere il Rigor Mortis e quindi hai bisogno comunque di forza fisica si però allora ascolta poi può ritornare ci sono dei fenomeni in cui esempio anche Jean-Michel Kravetschvili gli si era ripresentato un po' di Rigor Mortis perché comunque poi l'avranno rimesso in frigo e riparte un po' ok può ripartire un attimo di Rigor Mortis non voglio entrare nella questione della datazione dei Kravetschvili perché hai capito ci sono dei fenomeni che col freddo chiaramente possono perdurare ok no tu hai parlato di questo escursionista di questo scalatore in realtà anche l'Everest si escursionista scalatore ma io forse tu stai parlando di un madonna non mi ricordo come se quest'ora è passato mezzanotte lo scelpa lo scelpa esatto magari lo scelpa però a prescindere credo fosse uno scalatore una condatta quindi tu parlavi però di temperature che sono meno 20 meno 30 naturalmente è un esempio no 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 però sì no no fammi finire dal momento in cui tu prendi quel corpo e lo riporti a valle e lo naturalmente poi lo lasci scongelare perché è ancora congelato sicuramente perché meno 20 meno 30 deve congelare si vede che è stato congelato cioè lo vedi che è stato chiaramente congelato ci sono le ustioni sì ecco sull'iliana non c'era nel caso c'è anche proprio tipo la mummificazione una specie di mummificazione di codificazione avviene perché comunque è un ambiente cioè nella neve è mummificato proprio cotto sì esatto 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 non me ne sono nemmeno accorto è stato molto molto interessante anche nel frattempo che tu parlavi ho creato anche la copertina mi sono messo un po' avanti voglio ricordarvi e poi lo metterò nel link che c'è anche un libro sul Movie Prince che ha un sacco di recensioni positive che parla appunto del disastro che si chiama Una strada nebbia sottotitolo le domande ancora aperte sul caso Movie Prince non mi chiedete com'è perché non l'ho letto però l'ho già messo nella lista probabilmente il Natale lo tirerò fuori da Amazon e poi vi dirò come io smetterei se voi non avete altro da dire insomma tanto tu Liliana abbiamo detto quello che si doveva dire insomma credo che poi le domizioni non mancheranno e avete altro a dire? niente è giusto che la svolta potrebbe essere se davvero si scopra dove è stata Liliana che è un peggioro sarebbe importante però credo sia difficile capire dove è stata perché non aveva i cellulari con sé quindi anche seguire un segnale non so sarebbe davvero interessante capire dove è stata quella sarebbe una cosa molto importante però ragazzi finché si crede come dire finché non si crede alla perizia che dice che sta che era viva fino a tre perché poi io dico c'è la perizia ma ci sono anche quattro testimoni cioè è possibile che tutti si sbagliano c'è un vicino che la vede uscire di casa c'è la c'è la come si chiama la la frottivendola che la vede passata davanti al negozio c'è l'Ilaria Volpe quella con cui ho parlato del telefono che l'ha vista la sera del 14 alle 19 alle 19 e 41 poi c'è quella signora in piazza in piazza dell'ospedale maggiore il 22 quindi l'hanno vista se voi vi ricordate bene Sebastiano in anteprima per il mio canale che ringrazio ha raccontato perché Liliana aveva questo sciuffo bianco te l'hai visto no? si si lui dice che Liliana diceva donna diceva Sebastiano lo sai che ci sono due mie due mie sosi a Trieste ma io non voglio essere come loro e se ne ha fatti il sciuffo bianco per essere diversa da loro quindi le testimoni che l'hanno viste hanno visto che era Liliana perché aveva il sciuffo bianco è riconoscibile quindi non era un sosi era lei l'hanno nominato proprio il sciuffo bianco sia la frottivendola che la signora che dice di averla vista il 14 allora perché non si riesce a credere a quello che dice il dottor Costantidines perché è normale perché se si crede a quello che dice Costantidines non può essere stato Sebastiano e Sebastiano è il diciamo il capo espiatorio perfetto e il marito il marito che chissà per quale motivo la voleva uccidere perché se no voleva prendere soldi che ora si vuole divertire vuole andare a Donnucce eccetera 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 cosa che secondo me non sta facendo ma sta continuando con la sua vita come è giusto che sia perché anche se uno deve rinchiudere in casa e questo è quanto rimanete un attimo lì io saluto tutti se non volete aggiungere altro perché sono corto mi affegatello io ringrazio naturalmente nostra cara amica Franca da Criscio che oggi devo dire la verità lo posso dire Franca? sì cosa? del libro sì sì lo puoi dire bene allora Franca oggi in anteprima mi ha mandato un libro che io leggerò volentieri che uscirà appena la Giunti o la Mondadori la contatterà vabbè insomma noi partiamo in grande poi a tornare piccoli siamo sempre in tempo a ridimensionarci quindi saluto Franca gli auguro tanto bene leggerò il libro grazie ti ringrazio tanto a tutti naturalmente grazie al criminale Luca che è Luca Tacchi che è sempre qui con noi ora io volevo volevo proporvi un un titolo che mi è venuto adesso e mi ha fatto molto riflettere oltre a Liliana perché avrei delle cose perché ora poi Luca ti farò un regalo vorrei parlare di Enzo Tortona sì perché è stato un caso molto interessante e mi ha colpito molto poi magari si possono mettere anche dei piccoli filmatini di meno di 30 secondi perché sennò si sono stanco si viola il copyright va bene io vi saluto grazie a tutti a tutti che hanno partecipato a questa trasmissione ci sentiamo in settimana sapete che bene o male escono sempre delle trasmissioni ho alcune novità anche sul caso Liliana e Sinovic voi rimanete lì che il tuo organizzazione finisco di parlarvi va bene buonanotte a tutti buonanotte 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 buonanotte